Benvenuti a tutti in questo nuovo video Oggi vi mostro questa action cam della Sony Ma la cosa particolare è questa modifica che ho fatto io al casco Dato che la Sony quando vende le sue action cam da pochi supporti E non avevo il supporto come agganciarla sopra al casco Quindi ho fatto una modifica con questo filo di una reflex E ho fatto si che il supporto sia ben fissato fermo Se il video ti è piaciuto metti un pollice in su e iscriviti al mio canale Ciao Grazie